Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Clash Royale! Io sono Oscar Serra Official, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo al mio canale. Prima di fare qualche battaglia, spadabam, chiuso di aprire un clan, un clan lo chiameremo spadabam, è naturale, spadabam, così che tutti quanti coloro che vorranno entrarci e giocare contro di me, mi raccomando però andateci ad agio, non sono ancora al meglio, sto ancora facendo pratica, 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 ma vediamo un pochettino, allora, clan, andiamo sulla pagina clan, mostra clan, dopodiché creiamo uno nuovo, Allora, lo chiameremo, come vi ho detto, spadabam! Allora, vediamo la decorazione, la decorazione, 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 allora, vediamo, vediamo... Il segno della pace, peace, mi piace un sacco, descrizione, la potenza degli sbadabemmini, insomma, tutti i miei fan, tutti coloro che amano lo spadabam! La potenza degli sbadabemmini, siete degli sbadabemmini, tipo, facciamo così, solo su invito, ok? Così tutte le persone che vedranno questo video potranno mandarmi la richiesta, per il momento facciamo così, così rimaniamo tra di noi, trofei necessari, boh, facciamo, non so, facciamo un 300, dai, sì, rimaniamo bassi, Adatto a tutti, se decidi di rendere il clan adatto a tutti, aggiungeremo un livello di protezione allacciato, Sì, assolutamente, più disattivato in seguito, ok? Posizione internazionale, sfoglia, facciamo Europa, dai, Europa, 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 Crea, Crea, nome non valido? Ma come nome non valido? C'è già uno sbadabem? Ma stiamo scherzando? Ma dai, facciamo così, un punto esclamativo, va, vediamo un po' se l'accetta No, niente da fare, vediamo un po', un muscoletto, muscoletto, niente da fare, ma porca miseriaccia, che è che c'è come sbadabem? Ad ora facciamo così, dai, facciamo così, sbadabem underscore clan, Facciamo così, questo ci sarà senz'altro Evviva! Quindi ragazzi, il gruppo si chiama sbadabem underscore clan, ok? Quindi mi raccomando tutte le persone che vorranno giocare contro di me, vorranno accedere, mi raccomando, andatelo a cercare sbadabem underscore clan, sbadabem, lineetta bassa, clan Ed ora, una volta creato il clan, ragazzi, facciamo una bella battaglia assieme, vediamo un po' con chi, contro chi giocheremo Tobias! Ciao Tobias, se stai guardando questo video ti saluto, iniziamo la partita, vediamo un po' come andrà a finire, come andrà a finire questa partita Ah, dimenticavo, il nostro unicorno lo porta fortuna Vediamo, vediamo, unicorno lo porta fortuna, dai, 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 che il nuovo unicorno lo porterà fortuna, dai, dai, vai, gigantoni! Dai, dai, è che siamo abbastanza in vantaggio adesso, in questo istante Allora, il mega sgherro, il mega sgherro, si sgherro, vai, 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 mega sgherro Rilanciamo il nostro mini pecca Oh, oh, oh! Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no! Ma no, 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 ma no Allora, diamo un po' Gigantone da questa parte perché tanto di là c'è una mia torretta che farà il suo percorso Dai, unicordolo! Vai, unicordolo! Dai, 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 shhhhh Paravacchia tutto, vai, boom! Mamma che pugnazzi! dai, dai yes raga sto migliorando vi devo dire la verità sto migliorando quindi sono affari vostri se poi perderete mi raccomando non fate le piangine allora vai 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 a proposito ragazzi vi volevo dare questa novità questa domenica sarò al Milano Games Week quindi mi raccomando Milano Games Week tutte le persone che vorranno venire o vorranno incontrarmi per una foto, un autografo o due chiacchiere sarò al Milano Games Week 27 novembre segnatevelo mi raccomando ci saranno tanti giochi ci sarà da divertirti nooo ma che sfortuna guarda com'è pratico questo qua mi è fregato proprio all'ultimo che gli stavo conquistando la torretta dai 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 glielo un pugno almeno uno gliela dà allora qui ci piazzo la capanna Goblin un magasgarro che va a vai a fronteggiare lui ok vai buono il gigante è messo a pennello vai 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 andiamo così unicordolo guardalo booo si 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 vai 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 che ci siamo dai 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 che è nostra dai che è nostra dieci non ci credo vai due torrette si 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 mamma mia ma sto diventato un caterpillar mamma mia ragazzi che potenza e la prima battaglia the winner is spadabè Mosca Serra official adoro vai raga vediamo se vinciamo anche la seconda unicorno vediamo un po' vediamo 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 abbiamo 1040 coppe mi raccomando vi ricordo ragazzi clan appena creato spadabem underscore clan eh quindi mi raccomando venite numerossi venite numerossi seconda battaglia vediamo un po' che cosa succede e lasciate un like al video mi raccomando raga vediamo facciamo partire lui dai ah ok lui va di 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 sti insettini piccolissimi noi andiamo dal più debole al più fortino dai vai due vai 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 tu fronteggia ok mandiamo i nostri barbari raga livello 8 dei barbari è tanta roba in un attimo potenza no limits allora qua la sfera è infuocata per forza perché questo è potente vai 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 dai dai sti ranetti che fanno il loro percorsino vai vai mamma mia se stiamo migliorando dai dai che stiamo migliorando dai dai gliene una yes vai dai che stiamo per conquistare la torretta torretta si dai dai così dai così uniporro dai forza e coraggio adesso cerchiamo di coprirci un attimino gigantone nooo dai dai gigantone frecciate facciamo in piazza pulita spetate nooo dai dai unicornolo dai unicornolo unicornolo porta fortuna la vai 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 ma guarda te con queste sfere dai che manca un minuto se usiamo la strategia corretta dovremmo riuscire a spaccare tutto dai e adesso lui me li fa fuori con ogni pallotto vabbè però dai ricarica rigenera ricarica si ok tu mi metti lui e io ti metto lui a fronteggiartelo tu mi metti lui e io ti metto lui così vediamo un po' qua per forza la sfera infocata per il momento mi sto coprendo abbastanza bene allora gigantone vai barbari vai vai così si 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 butta la sfera infocata tanto non mi interessa si si vai vai che tanto arrivo 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 da te vai 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 dai si andiamo mamma mia e perdi pure questa dios 3 2 1 6 2 battaglie di fine l'unicorno spadabam no vabbè the winner is oscar serra official allora ragazzi grazie per essere stati con me grazie per aver guardato questo video quindi mi raccomando novità super novità ho creato il clan spadabam underscore clan quindi mi raccomando mandatemi la richiesta e così potremo giocare insieme dopodiché questa domenica 27 novembre vi aspetto a milano games week alla fiera ro fiera di milano appunto e niente che dire ciao a tutti e spadabam ciao a tutti ciao a tutti